Ciao a tutti e bentornati nel mio canale, io sono Bebbo e nel video di oggi vi farò vedere come fare in modo che la stampante 3D, ovvero sia lei, possa spegnersi in automatico alla fine di una stampa e questo lo faremo utilizzando una presa smart, nello specifico la Shelly Plug S che ho appena recensito in un video che vi lascio il link qui sopra e che vi invito ad andare a vedere. E vedremo quindi come fare in modo che la stampante si spenga da sola utilizzando un semplice tra virgolette trucco, perché? Perché la stampante naturalmente quando stampa tiene acceso l'estrusore, riscaldato l'estrusore, quindi ha un consumo di energia piuttosto elevato. Nel momento in cui la stampante smette di stampare, ha finito di stampare, spegne l'estrusore affinché questo si raffreddi e quindi il consumo di energia della stampante a quel punto crolla in modo drastico. E sarà proprio attraverso questa variazione di consumo istantaneo che noi riusciremo a capire attraverso di lei, attraverso la presa smart, che la stampante ha finito di stampare e quindi quando il consumo di energia sarà veramente basso, diremo a lei tramite un'automazione di interrompere l'alimentazione e quindi di spegnere la stampante. Questa è una cosa molto comoda, per me è stata fondamentale perché vi permette di lasciare la stampante accesa durante la notte, perché magari finisce una stampa alle 3-4 di notte e non vi ritrovate, poi la mattina comunque la stampante è ancora accesa, la troverete spenta perché si sarà spenta da sola. O addirittura magari se volete lasciare la stampante in stampa a casa e voi volete uscire e manca soltanto un'ora alla fine della stampa, lo potrete fare senza alcun problema perché la stampante a fine stampa si spegnerà da sola e quindi l'alimentazione verrà proprio staccata, è anche una questione di sicurezza. Quindi a questo punto andiamo a vedere attraverso l'app Shelly come configurare la presa smart. Allora eccoci qui nella schermata principale dell'app, a questo punto quello che dovremo fare sarà andare in basso a destra e cliccare su scene, qui clicchiamo su aggiungi e diamo il nome alla nostra scena che nel nostro caso potrà essere spegni stampante 3D, spegni la mia stampante, comunque lo scegliete voi, vedete che nome volete dargli. A questo punto selezioniamo la stanza, quindi nel mio caso ad esempio ho la stampante 3D in manzarda e quindi seleziono manzarda e l'immagine della scena della scena e andiamo avanti. A questo punto dobbiamo scegliere quando questa scena si attiverà, quindi andiamo a cliccare su aggiungi condizione. La condizione deve essere basata su trigger, quindi selezioniamo basata su trigger, scegliamo la stanza dove è il trigger e selezioniamo la periferica, la presa, nel mio caso si chiama stampante 3D. Quindi dobbiamo a questo punto definire quando si attiverà, quindi vedete che selezionate quando il misuratore di potenza è meno di Watt X e io ho messo 6. Attenzione perché qui dovete verificare la vostra stampante quando ha l'estrusore spento, quindi quando è a riposo dovete essere sicuri che il consumo sia sotto i 6 Watt, altrimenti non si attiverà mai. Quindi nel mio caso 6 Watt, poi mettete il tipo di condizione, mettete una volta e mettete 10 minuti, quindi significa che se per 10 minuti la stampante avrà un consumo inferiore a 6 Watt, si attiverà questa scena. Quindi nel momento in cui si attiva questa scena dobbiamo scegliere che azione, che cosa andrà a fare, quindi l'azione del dispositivo in manzarda stampante 3D è la presa e dovremmo selezionare spegni dispositivo scegli. Impostazioni della scena dovete scegliere ovviamente tutti i giorni da mezzanotte alle 23.59, quindi questa scena è sempre attiva in qualunque momento della giornata. E fatto così ecco è pronto. Ora io qui ho diverse scene, però nel caso specifico vedete spegni la mia stampante, che è quella che abbiamo creato insieme. Quindi ricapitolando, quello che bisogna fare è, sì, si sceglie qual è il device, la periferica che attiva il trigger e nel nostro caso è sempre la presa smart Shelly. Il trigger si attiva quando? Quando il consumo di questa presa è inferiore a 6 Watt per almeno 10 minuti. E questo avviene nel momento in cui la stampante ha finito di stampare, spegne tutto, ovvero sia smette di alimentare l'estrusore e quindi nel mio caso, nel caso della mia stampante, il consumo scende sotto i 6 Watt. Verificate la vostra perché magari la vostra a riposo con l'hotend spento consuma 7 Watt e se impostate 6 Watt come ho fatto io non si attiverà mai la scena. Quindi scegliete appunto, definite quando la scena si attiva e poi definite qual è l'azione. L'azione riguarderà sempre la periferica che attiva la scena, quindi sarà sempre la presa smart Shelly che nel momento in cui si attiva la scena che cosa fa? Si spegne e quindi stacca la corrente e quindi la stampante si spegne. Io spero che sia chiaro, se ci fosse qualcosa non chiaro, se avete qualche difficoltà e quant'altro, scrivetemelo anche qui sotto nei commenti e da parte mia massima disponibilità a chiarire punti non appunto chiari. E per sostenere il canale vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche ogni volta che io pubblico un nuovo video. E anche per questa volta vi ringrazio di avermi dedicato il tempo, aver seguito il video e spero di esservi stato utile e aver ricambiato il vostro tempo. Grazie e ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti.